Prima di passare allo sport, tornano da domani sera le apreture serali estive in centro storico, l'iniziativa varata dal Consorzio Centro Commerciale Città di Lucca di ConfCommercio raddoppia il numero degli appuntamenti per il 2013, estesi anche ai venerdì e non solo di luglio, ma anche ai primi due di agosto, le prime due serate, quella di domani e quella di venerdì 5, giungono peraltro a ridosso dell'avvio dei saldi previsto proprio per sabato 6 luglio.